I podcast di LCN Sport Tempo di ritorno a casa per i tifosi della Calcio Lecco 1912 Tempo di ritorno allo Stadio Riga Monticeppi Giusto poche ore fa, nella serata di giovedì 17 novembre abbiamo assistito a una lunga serata dedicata ai cent'anni dell'impianto traguardo che è stato tagliato il 15 di ottobre con la posizione della targa è stato eseguito un gesto simbolico comunque importante mentre per la Marcord è stato necessario aspettare un mesetto abbondante in più presenti i protagonisti blu celesti di anni indietro presenti i protagonisti blu celesti di oggi qualcuno in entrambe le vesti come mister Luciano Foschi che è stato giocatore nel 94-96 ed oggi è allenatore in carica conduce la squadra verso la partita di sabato pomeriggio con il Piacenza una sfida che non è banale una sfida che muove anche gli animi dei tifosi che sicuramente non godono di grandi sorrisi quando vedono avvicinarsi la squadra emigliana c'è una rivalità, è nota non se le mandano a dire in tutte le occasioni e anche quando poi non si incrociano direttamente sugli opposti lati del campo sono comparsi infatti degli striscioni per la città una città che quindi è stata, mettiamo così, abbellita dai richiami verso la partita di sabato in programma alle ore 17.30 in tal senso è ancora aperta alla prevendita online e fisica per non farsi delle code che spesso sono stati importanti per entrare all'interno dell'impianto di Via Don Pozzi striscioni che ricordano l'importanza dell'appuntamento che invitano a presenziare come abbiamo detto perché l'ECO comunque continua a rimanere nelle zone d'alta classifica il Piacenza no penultimo l'abbiamo già presentato questo aspetto che però dal punto di vista della sfida vuol dire poco tra l'altro Piacenza ultimamente in trasferta ha fatto anche delle buone cose quindi come farsi tradire dalla numerica potrebbe essere veramente facile attenzione quindi però l'ECO potrebbe essere ancora una volta di più supportato da quei tifosi che da cento erotti anni riempiono le gradinate dello stadio Rigamonti prima anzi campo di Via Cantarelli prima stadio Rigamonti poi stadio Rigamonti-Cepi dal 1993 in avanti per celebrare delle leggende che purtroppo oggi non ci sono più tifosi che ovviamente rappresentano il cuore pulsante del blu celeste grazie a tutti